Una sfida bella, importante contro una squadra di valore, difficile come lo diciamo sempre ma forse questa volta anche qualcosina in più e in cui vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto l'ultima partita perché sicuramente non siamo contenti del primo tempo che abbiamo disputato e abbiamo voglia di fare una partita diversa da quella da cui veniamo. Incontriamo una squadra che fuori casa ha sempre fatto molto bene, che ha un organico importante e che sicuramente verrà qui per provare a fare la partita che hanno sempre fatto. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità, conosciamo bene le grandi qualità che avrà l'avversario di domani ma ripeto abbiamo voglia di fare una partita importante, difficile ma importante perché abbiamo bisogno di rifarla visto che nell'ultima purtroppo non siamo stati in grado di fare quello che volevamo fare e allora abbiamo questa voglia di rivalza che non deve essere spregiudicatezza perché deve essere una rivalza organizzata perché di fronte abbiamo un avversario che ha le qualità per poter fare una grande partita e quindi sicuramente sarà una partita di livello e mi auguro che alla fine, sapendo che ci sarà da fare tanta fatica potremo ottenere quello che abbiamo voglia di ottenere. Abbiamo delle assenze come le abbiamo avute anche le altre partite ma abbiamo anche le presenze come le avranno i nostri avversari sicuramente in campo ci saranno giocatori bravi dall'una e dall'altra parte e sicuramente sarà una partita difficile per entrambi noi lo sappiamo, vogliamo farla bene perché vogliamo riprenderci dall'ultimo intoppo che abbiamo avuto perché non ci siamo piaciuti soprattutto nel primo tempo e abbiamo voglia di fare qualcosa di diverso ci siamo allenati tutta la settimana in base anche alle condizioni qualcuno che ha giocato ha saltato i primi giorni di allenamento, qualcun altro sta rientrando, le scelte sono ancora da fare ho a disposizione tanti giocatori e spero di riuscire a mettere in campo la squadra più equilibrata possibile ovviamente come diciamo sempre prima è la cosa più complicata dopo ci renderemo conto se saranno state fatte le scelte giuste o meno sicuramente alla base, al di là di chi scenderà in campo sarà determinante la voglia che dovremo avere di fare una partita diversa da quella da cui veniamo mi piacerebbe, mi piacerà tantissimo quando riusciremo ad arrivare a un livello in cui al di là degli interpreti potremo essere in grado di esprimere il nostro gioco ovviamente sappiamo benissimo che la qualità degli interpreti determina tanto il gioco e quando gli interpreti sono tanto forti sicuramente lo si vede però per il nostro obiettivo, io lo ripeto e lo ripeterò sempre noi lo sappiamo, noi possiamo fare tanto tanto meglio di quello che stiamo facendo abbiamo dei margini enormi perché la nostra forza non deve essere quella di appoggiarci al gol di Tizio o alle qualità di Caio, la nostra forza deve essere quella di sapere che abbiamo all'interno tanti elementi con delle qualità importanti che devono essere in grado di insieme riuscire a mettere sul terreno di gioco perché l'obiettivo nostro è quello di far rendere al 100% tutti i giocatori Luca sta bene a disposizione come tutti i suoi compagni e si è allenato tutta la settimana con noi per quanto riguarda gli avversari, insomma io ho passato tre anni bellissimi in quella città e ho un ricordo stupendo, insomma conosco ancora tante persone che erano lì e saranno lì domani quando giocheremo mi hanno lasciato dentro qualcosa di bello come tutti i posti dove sono stato al di là delle... cerco di dividere molto quelli che sono poi i risultati sportivi perché non determinano quelli, le relazioni che poi uno ha e io in quell'ambiente come in tanti altri sono riuscito a creare delle relazioni importanti che tuttora vanno avanti e che mi lascerà dentro di me sempre un ricordo molto molto bello di questa città e di questo ambiente. Ovviamente poi gli anni passano e ci si riaffronta domani sia loro che noi abbiamo voglia di prevalere l'un l'altro però insomma questi sentimenti e queste sensazioni rimangono poi una volta finita la partita.